E un giorno parlavamo con lui di Mosè, naturalmente, e io non sono un gran fan di Mosè e di quello che ne è seguito, perché mi sembra che la politica israeliana sia esattamente quella di Mosè, che uno va, fa terra, piazza pulita di quelli che ci sono intorno, si piazza lui, dice questa è la mia terra, me l'ha data Dio, insomma quelli sono punti di partenza che sono difficili da condividere. E lui mi disse, ma c'è un tedesco che si chiama Asman, che ha scritto dei libri su Mosè, e io per fortuna ero prepatico, e ne ho letto uno che si chiama Mosè l'Egizio, un libro molto interessante, Asman è uno specialista di questo tipo di commistione fra l'antico Egitto, si parla dell'Egitto dei Faroni ovviamente, e la Bibbia, le storie bibliche eccetera. E gli ho detto sì sì, ho letto il libro di Mosè l'Egizio, ma no, è un articolo che lui ha scritto recentemente, in cui analizza un libro di Thomas Mann, che si chiama La Legge. Voi non so se avete mai letto questo capolavoro sterminato di Thomas Mann, che si chiama Giuseppe e i suoi fratelli. È un'opera di pirotecnica, di quelle cose, sai come fanno gli equilibristi, i giocolieri, perché lui prende questa breve storia che c'è alla fine del Genesi, in cui c'è la storia di Giuseppe e i suoi fratelli, i dodici fratelli, Giuseppe poi va in Egitto, diventa amico del Faraone, poi i fratelli arrivano, loro credevano di averlo ammazzato, eccetera eccetera. Però è una storia di tre pagine, e Thomas Mann ne fa quattro volumi, di 1500 pagine, 1600 pagine, e Asman analizza questa storia, e poi però subito dopo arriva alla storia di Mosè. Allora per concluderla, durante la Guerra Mondiale, gli si chiede di scrivere un libro su Mosè. E lui scrive questo libro, che è una specie di appendice a Giuseppe e i suoi fratelli, un quinto volume, un po' più breve degli altri, che si intitola La Legge. E in questo articolo di Asman, mi dice Ratzinger, è interessante perché Asman dice che Thomas Mann presenta praticamente Mosè come se fosse un proto-nazista. E quindi è una cosa un po' strana, glielo fanno scrivere perché i nazisti stanno ormai, avevano conquistato una buona parte dell'Europa, stavano distruggendo la religione ebraica, chiedono a Thomas Mann, lei che ha scritto questo libro su Giuseppe, faccio qualche cosa su Mosè, lui legge l'Esodo e dice però a me mi sembra come se fosse un nazista questo, un proto-nazista. E io, niente, incasso, poi però vado a casa e ci penso, e dico, beh, questo è molto interessante, perché è un tedesco che vede una cosa così, come un proto-nazista. E vado a cercare in rete, ormai si trova tutto in rete, e ho detto, chissà cosa pensava Hitler di Mosè, perché se dovesse un proto-nazista avrei dovuto prenderlo a esempio. E guarda caso, ci sono le conversazioni di Hitler con un tale, che poi sono state pubblicate, e Hitler aveva le sue idee su Mosè, solo che non pensava che fosse un proto-nazista, pensava che fosse un proto-bolcevico, e dice, è come Lenin, no? E allora uno dice, ma guarda tu, cioè è la stessa persona, no? Lo stesso condottiero, no? Uno pensa che sia un nazista, l'altro pensa che... Certo, non era un cranché, eh, se questi sono i modelli a cui lo si paragona. E questo mi è venuto in mente, da dire adesso, e anche prima mi era venuto in mente in questi giorni, quando da tutte e due le parti, in Russia e in Ucraina ci si scambia l'epitoto di nazista. I russi dicono che hanno invaso l'Ucraina perché bisognava denazificarla, no? E noi diciamo che Putin e Hitler, no? E certo, ci sono verità e falsità da tutte e due le parti. Sappiamo che l'Ucraina è un paese che, quando Hitler, veramente quello vero, è arrivato, gli ha aperto le porte. L'Ucraina ha fatto, negli anni 40, quello che ha fatto l'Austria nel 38. Hitler è entrato in Austria e non c'è stato un colpo sparato perché tutti l'hanno festeggiato, l'Austria era nazista. L'Ucraina ha fatto lo stesso, contro la Russia, naturalmente, no? Cioè, quindi, certo, qualche sentimento, diciamo così, di represso ci deve essere. Dall'altra parte, certo, i metodi che si usano in guerra, forse l'idea è quella, che i metodi che si usano in guerra sono sempre gli stessi, che li usi Lenin, che li usi Hitler, che li usi Putin, o che li usi Bush figlio quando va in Afghanistan, sono quelli. La guerra è nazismo, è totalitarismo, è bolshevismo, no? E così via. E allora è inutile palleggiarsi, no? E a dire tu sei Hitler, no? Sei tu Hitler, eccetera. Forse bisogna cercare di capire gli altri. E l'idea, appunto, no, di quella storia di Maria Mirzaccani, Mirzaccani, ci fa capire che forse nel caso dell'Iran, magari noi non capiamo quello che loro sono effettivamente. Bisogna andare nei paesi, certo, non bisogna dire che il capo di Stato straniere è animale, no? Come dice il nostro Ministro degli Esteri, no? O prendere quelle posizioni lì, no? O dire come Recalcati che quello ha i problemi con sua madre e con suo padre, perché vedi solo quello. Le situazioni sono complicate, le storie che noi studiamo servono a volte a mettersi nei panni altrui, a capire che si possono avere idee diverse. Per esempio, ho citato prima due idee diverse, di due persone completamente diverse, su se si possa essere allo stesso tempo donne e madri, da una parte, no? Donne, quindi, in questo senso, mogli e madri, e dall'altra parte scienziate. Qualcuno pensa di sì, per esempio qualcuno, come invece la Montalcini, pensa di no. E chi ha ragione? Ma forse in queste cose non ci sono le ragioni. E se uno capisse che non ci sono le ragioni, forse non farebbe le guerre per cercare di imporre le proprie agli altri.